A quattro giornate dal termine l'Atletic di Mr. Mariani non deve fallire l'appuntamento con i tre punti per continuare a restare in vetta alla classifica. Gli avversari sono reduci da una roccambolesca vittoria contro Rivasamba e proveranno a dare fastidio anche oggi alle zone alte. Pronti via e dopo soli tre minuti Canciani rischia l'errore clamoroso consegnando la palla nei piedi di Gaspari che non riesce ad inquadrare la porta di poco. Pochi minuti più tardi Ilardo si incarica della battuta dai 18 metri, il suo destro aggira la barriera ma si infrange contro il palo. Prima vera occasione ospite alla mezz'ora con Galluccio ben servito da Minardi sfoga il suo destro ma Bartoletti si fa trovare pronto e dice no. È il Campomorone a trovare il primo gol di questa partita tra bacca, serve Bevegni dentro all'aria e infilza Bartoletti con questo mancino raso terra a fil di palo. A tre minuti dal termine della prima forzione di gioco viene fischiato calcio di rigore per questo contatto in aria su Ilardo. Rivediamo il replay allentatore dal dischetto si presenta Grosso che calcia incredibilmente sul palo esterno e sciupa l'occasione per portarsi in parità. Nel secondo tempo i padroni di casa entrano in campo più determinati e sfiorano subito il gol con Giuliani che prova la botta ma Canciani si distende e devia in angolo. Gol che arriva poco dopo sull'angolo battuto da Ilardo di Pietro sbuca e trova il guizzo vincente e fa 1 a 1. L'Atletic si scatena con Giuliani che entra in aria e mette in mezzo Temperini anticipa Cagliani ma in maniera goffa e tocca il pallone con le mani ed è quindi secondo Rinaldi di Novi Ligori di nuovo rigore e nuovamente i gialloverdi falliscono la massima punizione proprio con Cagliani che si fa parare il tiro da Canciani. Ilardo allora si carica la squadra sulle spalle dopo l'assist, trova anche il gol, bella palla di Cagliani e il numero 2 non sbaglia e mette a segno il settimo gol stagionale. Gli ultimi minuti c'è anche Gloria Perarighetti che deve solo appoggiare in rete il cioccolatino di Del Vecchio. Al novantesimo arriva anche la quarta marcatura dopo un pasticcio difensivo Zazzeri classe 2001 la mette dentro con uno splendido colpo di tacco. L'Atletic conquista altri 3 punti e vola più 4 sul Real Fieschi. Il destino è nelle loro mani.